Oggi non era previsto che pubblico i video, ma questo pubblicatore di video e quando li pubblicherò inizierò da lunedì, sulla prossima settimana Volevo iniziare a farvi vedere tutti i miei slime Tutti i miei slime, ok, allora iniziamo con il primo Cosa è di mia sorella Adesso è un po' più morbido Perché abbiamo aggiunto un po' di acqua E questo qua è il gummy slime Gummy slime di Eter Poi abbiamo sempre il gummy slime Gummy slime blue glitter Ed è un po' più morbido che ha messo acqua Però non è un po' più morbido che ha messo E questo è un po' più morbido che ha messo E' bellissimo perché è crunchy Non so come si dice la cosa Deve tenere in segno Adesso l'ho detto giusto Ma facciamo così Se noi facciamo così Si sembrano le bolle che scoppiano Poi è molto fluffy Ora questo si spezza in questo mondo Allora, non è né troppo duro né troppo morbido È tipo giusto Perché quello che c'era in questo baratto Era proprio acqua Sembrava proprio acqua Non è vero Non si provava quello che c'era prima qua E cosa c'è giusto? Buono, non lo so Però poi adesso è diventato così Ma cosa c'è giusto? Il colorante? Quello che abbiamo comprato? Si Allora Questo è il mio slime Tutti i miei slime Ditemi nei commenti Quale vi è piaciuta Iscrivetevi E mettete mi piace Mi piace Allora Io ancora ho citato un altro baratto Insieme a voi Però guardate Volevo aggiungere un po' di glitterini Vediamo che colore Aggiungiamo che le vite Viole Pastella Ne aggiungiamo un po' di viola Ok Panti e solo piano Adesso Mettiamo anche un po' di rosella Rosella pastella Rosella pastella Rosella pastella Ok Ho messo presi quello Adesso Andremo a Mescolare A mescolare A mescolare A mescolare Ok Ok Qua dove ho messo I I Ok Qua dove ho messo I glitter Adesso Sarà Sarà Strapieno A mescolare A mescolare A mescolare A mescolare E A mescolare A mescolare Il blu scuro E speriamo che si veda Di più E speriamo che si veda Il blu scuro Oh, guardate, ho le mani tutte fatte di cloutera. Guardate, sopra te, che bello. Bellissimo, guardate. Non si vede che l'anghia è nella. Allora, ditemi quale vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti quale fare. Un bacione a tutti, iscrivetevi, mettete un mi piace, iscrivetevi soprattutto. Dobbiamo raggiungere a me le 10, così facciamo il video delle cover. Ciao!